Il mio amico Marco, eccoci sulla Pasendana, siamo partiti da stamattina, Salerno, Reggio, Potenza, scesi dalla Pasendana tra poco direzione maniera, Mari, nella città di Crociera dai 140 ai 180, nei 170 di mezzo, il spazio di inquinoci è rigorosamente senza ammortizzatori Il mio amico Marco, nella strada vegetarica come sempre, parlando dell'asciugazione, sto mezzo potentissimo, la pietra ultima, il 26 natural paragone per l'esposizione della cinghiale estera, ecco, adesso passiamo anche a un cittadino, eccoci perché abbiamo un po' il senso della città, ci sono un po' di differenzione della vostra attenzione qualche auto-velox, ma questo per la Crociera è da 170. 100 minuti, 100 minuti. Sì.